VOLETE CREDITI O ACCOUNT CON FIFAPOINTS? GOFIFACOINS! LINK, CODICE, COUPON IN DESCRIZIONE! Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Putti, io sono Giovis Po, dello staff di NMF e benvenuti nella play e review di Shesney nella sua versione in form con 83 di rating. Prima di iniziare questa review vi chiedo di lasciare almeno 60 like per questa carta e per questa review e vi invito a commentare qui sotto con delle review che vorreste vedere sul nostro canale. Il primo pro secondo me di Shesney in form è il tuffo, 86. Si sente ragazzi, si tuffa in maniera precisa e puntuale. Altro pro le riflessi, 87 in carta. Anche questo valore si sente secondo me anche più alto, 90 perché capisce quasi sempre la traiettoria del tiro avversario. Altro pro le palle alte, lo aiuta parecchio secondo me la sua altezza, 196 centimetri. E sui tiri alti è molto preciso nelle parate. Altro pro le uscite pugno, diciamo un'uscita su 10 può anche sbagliarla, un'uscita su 15. Però in generale ottime uscite anche sui calci d'angolo con i pugni. Altro pro il prezzo di cui vi parlerò a breve. Come contro piccolo, contro in rinvio perché a volte risulta essere impreciso e lento. Presa 80, valore secondo me discreto. Riflessi, come già detto, ottimi. Velocità 55 è un valore accettabile, così come il piazzamento 80. Piede preferito destro con tre stelle e piede debole è una stella skill. L'alternativa che vi consiglio è Alice, tra le leggende Bayan, nella Lega Heart, nella Nazione Fabinski. Dello stesso livello, Cameni Inform. La versione precedente non l'ho provata. Gli stili intesi che vi consiglio di applicarli sono un qualcosa mirato al miglioramento del posizionamento e del rinvio. Questa carta costa di circa 14.000 crediti. Il base è dai 900 ai 1000 crediti. E per questo motivo il prezzo è un pro perché costa davvero poco, ma vale secondo me tanto. E vi consiglio di provarlo perché non costa moltissimo. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 7,5 ragazzi. Un 7,5 per un portiere, secondo me, è un'ottima valutazione. È un portiere che più volte mi ha salvato la partita. Comparate davvero incredibili. Ha un prezzo davvero, secondo me, basso. Ha questa piccola pecca del rinvio. Ma in generale è un giocatore con 83 di rating che fa tranquillamente il suo dovere. Dunque ragazzi, vi chiedo di lasciare un 60 like. Quello vi spò, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli! Ciao!